Assolto perché il fatto non sussiste, con questa formula sono decaduti nei giorni scorsi tutti gli atti accusatori, peculato e indebita a percezione, avanzati contro l'ex magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Sull'argomento è intervenuto il senatore Luciano D'Alfonso, all'epoca presidente della Giunta regionale, che nominò D'Amico al vertice di tua SPA. Ma è una sentenza che fa un'operazione verità, anche sull'inconsistenza iniziale del patrimonio accusatorio. Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo non conosca più queste esperienze di dolore, perché è un dolore demolitivo, che rischia di allontanare i bravi, i competenti, i capaci, dal sistema della decisione pubblica. A un certo punto un po' di denuncismo da parte dei soliti avversari e pozzangheristi, con un sistema dell'accusa che deve rivedere il suo modo di lavorare, ce lo hanno privato, ce lo hanno tolto, ce lo hanno tolto quanto all'entusiasmo del Rettore come Rettore e ce lo hanno tolto come vertice della Società dei Trasporti. Ma perché bisogna arrivare a quelle accuse così gigantografe, che poi si rivelano costruite su niente, tanto che le sentenze parlano di assoluzione per inesistenza dei fatti? Ma perché bisogna arrivare a questo? Poi annuncia la nascita a breve di un'associazione chiamata 358, come l'articolo del Codice Penale che fa obbligo al Pubblico Ministero di ricercare tutte le prove a favore dell'indagato. Perché quest'articolo è così odiato, così impolverato, così nascosto, così evitato? Perché? Perché magari se si coltiva quest'articolo poi si evita lo spettacolo? Lo spettacolo di una giustiziarietta? Noi dobbiamo evitare che il sistema giudiziario, quando procede e produce, realizzi paura e impaurimento. Noi faremo nascere un'associazione in Abruzzo, associazione 358, chiedendo aiuto agli accademici del diritto, agli avvocati, alle persone anche che hanno patito una giustizia sbagliata. Rifaremo i conti dal 1990 che cosa è successo in Abruzzo. Quante volte c'è stata, come si può dire, l'iperrubricazione accusatoria e quante volte poi le accuse si sono rivelate niente. E quante volte questo hanno tolto tranquillità, serenità, hanno prodotto paura. In alcuni casi hanno anche privato e tolto la vita.